Grazie Presidente. Questa mozione va ad affrontare le problematiche che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, legate comunque alle condizioni atmosferiche. Sappiamo che il gelo, abbiamo visto quanta neve ha fatto in quest'ultimo periodo, ha pesantemente danneggiato alcune, moltissime imprese agricole che operano nell'area di Roma Capitale. Nello specifico la Col di Retti, a causa di diverse ondate di gelo, ha stimato i danni in alcuni milioni di euro. Noi vogliamo un intervento, vogliamo sensibilizzare la sindaca di Roma affinché intervenga presso il governatore della Regione Lazio per dare supporto a queste imprese che hanno la necessità di ripartire e hanno subito questi gravi danni. La Regione Lazio dovrebbe al più presto individuare gli strumenti di sostegno adeguati necessari al ripristino dei terreni agricoli danneggiati a causa del gelo, ovvero la compensazione delle gravi perdite di reddito subite dalle imprese. Grazie Presidente.